La nuova edizione di Isola di Einstein sicuramente pone l'attenzione anche su temi di attualità scientifica. L'Isola di Einstein è associata a un evento per bambini e famiglie e noi vogliamo dire non solo, perché avremo modo di riflettere su temi importanti, quali cambiamenti climatici, le esplorazioni dell'universo e un tentativo di raccontare il nostro mondo anche per poterlo poi vivere e rispettare.